La maggioranza è molto importante, la maggioranza compatta, noi l'avremmo approvata comunque, però l'avremmo approvata con maggiore difficoltà, con un numero risicato, invece c'è stato un contributo importante di componenti che fino a qualche tempo fa erano con noi in maggioranza, penso sì, ma anche un contributo fattivo dell'opposizione, anche di consiglieri che stanno dando in queste ultime settimane un contributo importante all'azione dell'amministrazione. Le delibere sono importantissime perché riguardano vari comparti, ma in particolare il federalismo demaniale. Abbiamo fatto un grande lavoro come amministrazione insieme al demanio, insieme allo Stato per far trasferire al Comune di Napoli beni importanti, quindi una delibera di giunta fatta già da diverso tempo, oggi col Consiglio Comunale rendiamo operativo tutto questo, sono ben importantissimi. Pensiamo a tutto il sottosuolo della città, quindi pensiamo alle tantissime opportunità per citare dal tunnel borbonico a tantissime altre cavità che entrano nella disponibilità del Comune e quindi adesso insieme ai cittadini noi andremo a utilizzare al meglio questa grandissima opportunità. Pensiamo al carcere minorile filangeri, pensiamo al lavoro che si è fatto sull'edilizia popolare per quanto riguarda il campo evangelico, scuole, aree di demanio marittimo come l'idopola. Insomma è un'opportunità enorme che ci consente di valorizzare il patrimonio della città, farlo secondo il nostro indirizzo politico insieme alle comunità, insieme ai quartieri, insieme ai cittadini. Alcuni in realtà le attività sono già in corso, pensiamo a quello che con la delibera di oggi riusciremo a fare per completare l'opera dell'Annunziatella, per esempio straordinaria, di cui completeremo in settimana tutto l'iter anche grazie a questa delibera e che sabato siamo in condizioni di ufficializzare che c'è anche la festa dell'Annunziatella. Penso al lavoro che si sta facendo con i giovani per quanto riguarda l'idopola, lo stesso il lavoro con Luca De Filippo e con altri per quanto riguarda il museo, per l'ex carcere minorile filangeri, in alcuni casi ci saranno dei bandi, il sottosuolo penso al lavoro che vorremmo fare con i volontari di Galleria Borbonica che stanno utilizzando il tunnel Borbonico. Quindi noi ovviamente già avevamo iniziato un certo lavoro e quindi veramente credo che questa sia un'opportunità straordinaria per la valorizzazione delle aree ma anche per mettere a reddito sociale ed economico tutto quello che oggi abbiamo acquisito. E devo dire veramente è un grande lavoro del Comune perché non era facile fare delle proposte che il demanio ci potesse validare e quindi consentire perché siamo stati credibili in tutto questo, quindi oggi dobbiamo dimostrare di saper mettere a reddito sociale ed economico e di utilità collettiva tutto quello che ci viene trasferito. Credo che oggi sia stata scritta una pagina veramente importante anche grazie alla collaborazione del Consiglio e da ultimo anche una delibera significativa che conferma che a fronte di tagli orizzontali e duri che i governi nazionali e regionali fin qui hanno messo in atto nei confronti delle politiche sociali, il Comune di Napoli col sostegno del Consiglio Comunale che va anche oltre la maggioranza che ci sostiene ritiene che non bisogna compromettere risorse per il sociale, quindi per gli ultimi, per le fasce deboli, per le persone in difficoltà. Quindi veramente una pagina di buona politica e quindi insomma un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito a tutto questo.